Un partito che è vissuto mezzo secolo e per quel mezzo secolo ha quasi sempre governato. L'ADC solo agli inizi non ha governato e alla fine si è trasformato in qualcos'altro, complice una lotta giudiziaria e politica tremenda. L'ADC nasce nel 1943, grazie a gruppi che si incontrano in tutta Italia. Noi pensiamo in genere al gruppo romano, De Gasperi e via dicendo, ma in realtà ex popolari, neo-welfi ed esponenti delle associazioni cattoliche si incontrano in varie occasioni e tutti decidono che devono fondare un partito che rappresenti i valori cristiani sul piano politico alla fine del fascismo. Nel 1943 iniziano addirittura prima questi incontri della seduta del Gran Consiglio in cui caderà Mussolini, però c'è da dire che questi incontri un po' carbonari pensano che finirà il fascismo dopo la guerra, ma non sanno se finirà davvero e se ci sarà bisogno di loro, oppure il fascismo sopravviverà. Il fascismo non sopravvive. L'ADC viene coinvolta nelle lotte partigiane, in realtà i democristiani coinvolti sono pochissimi, Mattei avrà una cassa speciale per comprare le brigate partigiane indipendenti da socialisti, partitazioni e comunisti e creare così il mito che anche i democristiani sono stati partigiani. Qualcuno ce n'è stato, è vero, ma pochissimi tutto sommato, la maggior parte erano collegati ad altre sigle. Nell'inizio dei governi della Repubblica, Parri, Bonomi, Parri, Gasperi e l'ADC va al governo, questo grazie alla duttilità del gruppo del disente. Uno, al sossegno della Chiesa diretto e dell'azione cattolica in tutte le parrocchie d'Italia. Due, non si sputtana, diciamo così, nella scelta tra Repubblica e Monarchia, prendendo voti anche dei monarchici, tanti voti. Molti votano monarchico e poi DC. DC in teoria è repubblicana, ma non preferisce una scelta gnostica rispetto a queste attesi, pur di non perdere il potere. De Gasperi inizia a governare, ci sono i primi scandali, la DC governa tutta la sua vita con degli scandali, lo scandalo banana è uno dei primi, però fa anche grandi cose De Gasperi. Fa la C, si accorda per il recovery degli americani, per gli aiuti americani all'economia e alla popolazione. Purtroppo la lotta politica è serratissima. De Gossetti è uno dei primi che se ne va, aveva creato un gruppo a sinistra dei De Gasperiani, che erano al centro del partito, a destra con De Gasperi c'è Scelba, ma poi diventerà la destra, e questi qui governano in qualche modo il partito. De Gasperi non riesce a vincere le elezioni con la legge truffa e viene cacciato dal governo. Muore poco dopo, deluso, c'è il sazzo, la biografia di sua figlia, De Gasperi uomo solo, che parla di ciò. Poi c'è Fanfani, Fanfani domina il partito, dal partito pensa di andare anche al governo, riesce a sottometterlo per un po', poi nascono le correnti Dorotè, che lo mandano fuori dai giochi per un po', all'opposizione. C'è Moro, Moro all'inizio è un Doroteo, Moro era all'inizio in realtà un Dossettiano, come Fanfani. Fanfani per il potere è capace di fare qualunque cosa. Moro fondamentalmente non disprezza il potere, e anzi, pensa di usarlo a favore dell'Italia e del partito soprattutto. Ci saranno grandi scandali? Chi sarà Antelope Kobler? E come mai, proprio nei governi Moro, in cui lui fa le promesse più esaltanti ai socialisti, non succede niente? In realtà, nell'universo democristiano, c'è chi nasce a sinistra, si muove a destra, va al centro, e via di centro, tipo Andreotti, e passano, ci sono persone che passano tutti gli schieramenti all'interno dello spettro democristiano, pur di governare e di avere il potere. Fanfani, con Fanfani si esalta la figura della razza padrona, cioè dei dirigenti di Stato, perché Fanfani inizia a dilatare abnormemente il sistema dell'Iri, dell'Eni, dell'Efim, e con queste fabbriche, queste banche, eccetera, eccetera, le trasforma in zone di potere. Tu hai il finanziamento in banca, se mi voti e fai votare, me Fanfani, io con i soldi che mi dai di una tangente, qualunque sia la mia posizione, compro tessere, perché le tessere aumenteranno sempre fino ai 2 milioni di tesserati, e conterò di più. In realtà ci saranno negli anni 80 congressi di circolo, in cui arrivano i signori delle tessere, soprattutto nelle grandi città, che hanno fondato questi circoli, e dicono, io ho 200 tessere, io ne ho 300, allora facciamo così, cos'ha, cos'ha. E in base alle tessere che hanno comprato, magari con delle bustarelle, decidono la loro posizione e la posizione dei propri adepti, e quindi è un circolo che si ripete all'infinito. Moro, come abbiamo detto, è un importante esponente prima dei Dossettiani, poi dei Dorotei, poi fa il suo gruppo, il suo gruppo diventa l'area Zac, per eleggere Zaccanini alla segreteria. Zaccanini riesce a vincere per pochissimo su Fornani, il quale, se avesse caduto un po' più in se stesso, probabilmente vinceva, riuscendo a muoversi meglio. Però siamo passati dal centrismo di De Gasperi, quindi al massimo quattro partiti, di cippi liberali, repubblicani e socialdemocrati, a Fanfani e Moro che aprono i socialisti, Moro che porta nell'area di maggioranza i comunisti e poi muore in condizioni misteriose. Ricordiamo che in quegli anni si parla di apparati deviati dello Stato e non è escluso che i brigatisti che hanno ammazzato Moro non avessero dei legami con qualcuno dei servizi segreti italiani o americani. Gli anni Ottanta si aprono con Demita, quasi subito, che arriva al potere, promette la grande riforma, la riforma del partito soprattutto, di farlo diventare tutt'uno un solido blocco e non più vittima delle correnti. Demita fallisce. Dopo aver fatto governare Craxi, porta alle elezioni il partito con Fanfani. Fanfani è una burla, non è votato proprio dai democristiani per cadere e quindi andare alle votazioni sperando di vincerle. Demita cade dopo aver fatto governare Goria, il cui governo non era neanche considerato democristiano, lui che era democristiano, ma un governo amico, ma un governo amico sempre con i franchi tiratori demitiani che lo mettevano sotto. Demita governa pochissimo e non si muove, non fa niente di particolare. Andreotti fa la stessa cosa dopo Demita, ha creato il CAF, Furlani ha la segreteria, lui ha il Palazzo Chigi e un socialista promettono nella prossima legislatura sarebbe tornato a Palazzo Chigi. Andreotti per tre anni non fa nulla praticamente al governo tranne ad andare in guerra in Iraq e con questo peggiora l'estruazione economica sia al sud che al nord. Il nord inizia a ribellarsi, prima ancora di mani pulite spunta il fenomeno leghe che conquista molte zone bianche, quindi in Veneto, in Lombardia, importantissimi comuni vengono a crescere esponenziali, provincia, regioni, esponenziali della lega nord e poi scoppia lo scandalo. Il partito già indebolito dal travaso di voti verso altri lidi, non più centrale dopo la caduta del muro, quindi non c'è più la convenzione all'escludendum dei comunisti che si trasformano in PDS e la fondazione comunista, si trova a dover lottare per la propria sopravvivenza. Chiamano a fare questo lo sceriffo Martinazzoli, lo sceriffo Martinazzoli, il quale è un personaggio che dicono incorrotto, ma ricordiamo che era parlamentare di lungo corso e aveva avuto importanti incarichi nel partito, nel Parlamento, e quindi chiamano Martinazzoli. Martinazzoli fa una dichiarazione. Sono venuto qui a trasformare in coraggio la paura. Purtroppo la dichiarazione è alzionante, ma i suoi risultati sono miseri. Trasforma l'ADC in partito popolare di nuovo, si affida a alleati come la Rosi Bindi in Veneto, eccetera, eccetera, cerca di ripulire il partito. qualcuno non sa per paura il repulist, o per altri motivi si scioglie da questo abbrazzo, segni che aveva fatto carriera, era diventato famoso agli inizi degli anni 90 con il referendum, se ne va, ma si riallerà con il Partito Popolare. altri vanno come Orlando nella rete, che Orlando fonda insieme agli ex comunisti, altri ancora finiscono il Ccd e vanno ad allearsi poi nel 94 con Berlusconi. Vanno a destra, se c'è una a destra, chi se ne va? L'attentativo di rinnovare il partito non ha successo, il partito diventa Partito Popolare, poi si sfalderà ancora di più, diventerà un partito del 6%, con partiti minori che si trovano in altre posizioni, un ramo se ne va addirittura nel PDS, eccetera, eccetera, e così finisce la strada dell'ADC. Un partito che ha iniziato a governare bene, ottenendo successi con De Gasperi, ma che è stato impigliato in storie tremende, sia dal punto di vista economico, sia dal profilo del terrorismo nero e rosso collegato ai servizi segreti e difficilmente non conosciuto dai grandi versi, legami con la Camorra, con l'Andrangheta, con la mafia, pensate a Salvo Lima, a Bernardo Mattarella, ai Gava, ai Scotti, legami con i fascisti, pensate agli androiziani evangelisti e Svardella, quindi pensate alle posizioni dell'accelera che sparava su manifestanti negli anni 50 con scelba, quindi ci sono delle luci, ma molte ombre, un grande partito, una grande storia, ma forse è bene che sia finita.